Se non ci sono altri dependi, passiamo all'approvazione del campus, come lo mostro. Conferma all'inquotale che dimostrano i servizi di distributistica per essere finanziati dalla Tasi. Ci resta seguito a prova, ci si alza o a prova. Allora, per dichiarazione, comunque, il consigliere Salva, la consigliere Salva. Grazie, consigliere Salva. Su questo capo, essendo quote fisse, già previste negli altri precedenti, comunque non invariabili, non ci avete dovuto mettere le mani, quindi non avete voluto fare danni, mi astengo. Grazie, consigliere Salva. Salva, allora, chi resta seguito a quella, chi resta seguito a quella, o l'astenzione del gruppo di Salva. Salva, allora, approvato a maggioranza, con il primo contrario, è anche un'inse del prete, e con l'astenzione del gruppo di Salva. Salva, allora, punti per la soglia e di fuoristi. Allora, approvato a maggioranza, con il primo contrario, è un'insella del gruppo di Salva. Salva, allora, con il primo contrario, è un'insella del gruppo di Salva. Salva, allora, con il primo contrario, è un'insella del gruppo di Salva. Grazie.